Buongiorno e buon Natale! Buongiorno! Dopo tanto tempo. Dopo tantissimo tempo. Ora qui in Sardegna la cosa strana è che praticamente il mare calmo c'è solo a dicembre e a gennaio quando in tutto il resto d'Italia ci sono le tempeste e gli uragani. Qui si può uscire in questo periodo quindi oggi col mare calmo andiamo a provare a pescare due polpi con un po' di tecnicone. Abbiamo portato le sardine, abbiamo portato le totanare di tutti i tipi. Facci vedere dove stai affilando. Guarda tutto! Questa è bellissima! Tutte le totanare possibili! Immaginabili! Ci inventiamo qualcosina e andiamo a vedere se ci sono due polpaccioni e mentre proviamo a pescare i polpi vediamo se c'è anche qualche seppia, qualche calamaro perché sapete com'è no? La fortuna è sempre dalla parte dei romani in questo caso. Ora giriamo dietro la sella del diavolo che è questa qui e andiamo sul luogo di pesca. Scusi? 20 centesimi non ce li ho? Acqua, olio? Non cominciare a convincermi di andare a train, io non ce l'ho. Voglio andare a train, no no brutta la train, andiamo a polpi che sono più tranquilli. I polpi in questo periodo si trovano un po' dappertutto ma oggi vogliamo pescare dietro la sella del diavolo dove il fondale è più basso e con queste condizioni di vento è un po' più semplice pescare a scarroggio. Siamo arrivati e come al solito rischiamo di essere affondati dal traghetto. È sicuro una bella onda ci arriva. Eccola qua, mo ci becchiamo l'onda del traghetto in diretta e vediamo quanto disagio ci crea. Già lo sento il disagio. Eccola. A posto, porca p***a. Allora cominciamo, mettiamo subito una canna a polpi. Io voglio cominciare con questa polpara, la semplicissima, e questo granchione che è forse uno dei migliori che ci sia. Vediamo se il colore gli piace. Oh, guardalo! Questo è ancora più bello. Dove l'hai preso? Questo non si dice. Dai cinesi. Dai cinesi? Vediamo se funziona. Tu che usi la polpara ora? Questa qua? Io metto una seppia e una polpi. Una pure io. Una seppia e una polpi. Allora, vediamo un po'. Io ho preparato questa montatura con questo granchio fantastico. Spero che gli piaccia il colore. Dopodiché c'è un'altra per i calamari e per le seppie. Quindi totanara e un bracciolo per lavorare un po' più alto della posidonia. Stete, invece? Stiamo preparando. Fede? L'ago. Qui ci mette una bella sarda. La sarda. La laccione, eccole qui. Cominciamo qua, finalmente Stefano ce l'ha fatta. Guarda che io sono impegnato a portare la barca, a trovare i posti, mette la cosa, scambia le canne che hai rovinato. Cominciamo finalmente a pescare su un fondale che va dai 3 ai 7 metri. Oggi la visibilità non è eccezionale. Un po' per colpa del cielo coperto, un po' per colpa delle mareggiate e dei giorni scorsi. Tuttavia il granchione si vede benissimo. Come si vede dalle immagini, il fondale qui è prevalentemente sabbioso e di certo non è il fondo ideale per pescare i polpi. Tuttavia potrebbe esserci qualche bella seppia. L'azione di pesca è davvero semplice. Si pesca scarroccio e le esche vengono trascinate sul fondo. Si può notare che a volte lo scarroccio è troppo veloce e forse la totanara non pesa abbastanza. Infatti si solleva troppo dal fondo e non ha l'effetto giusto. Per i primi 20 minuti non succede nulla, anche se la telecamera qualcosa di interessante la registra. Come questa triglia che viene a capire cos'è che sta smuovendo la sabbia e poi si allontana. Ogni tanto sul fondale fangoso emerge uno scoglio. Queste rocce sono delle vere e proprie oasi nel deserto e brulicano di vita. Anemoni, oluturi, stelle marine e piccoli crostacei invertebrati colonizzano tutto il fondale intorno alla roccia. Questa zona purtroppo è molto sfruttata dalla pesca sportiva e soprattutto da quella professionale ed è per questo che non si vedono tantissime forme di vita. Ma è interessante notare come le oluturie si trovano proprio intorno a queste rocce e questo comincia ad essere anche l'ambiente più interessante per trovare i polpi. Poco più avanti l'acqua comincia a diventare decisamente più chiara ed il fondale è perfetto per le seppie ed infatti una seppia comincia ad avvicinarsi al granchio forse con l'intenzione di attaccarlo ma è troppo grande per lei. Tuttavia ci sono altre due canne che stanno pescando con esche molto più adatte alla seppia. Stè ho preso qualcosa. Tira pure vieni vieni. Vieni con il retinillo. È un seppione corri. Buona questa della viva. Ah beh questa è troppo grossa. Ho visto la canna che stava già così e sicuramente c'era lei. L'abbiamo messa nella vasca del vivo. Ma questa andrà con i piselli e con le patate altro che vivo. Eh? Eh no è troppo grossa. Oh addio. Non è mai troppo grossa. Che cacchio sta succedendo qua? No guarda l'armatore. T'ha fatto nero. Guarda guarda che spruzza ancora. T'ha fatto nero. No vabbè lasciamo bene. Lasciamo la faccia. Eh? Tu ce l'hai un. Siamo infatti arrivati in una zona che sembra ideale per le seppie. Anche se stranamente invece di andare sullo teotanare mangiano le esche per i polpi. Piccolo morso. Sì sì. Morso di seppia. Bastarda mamma. L'hai presa? Ti devo aiutare con il retino? Assolutamente sì. Stai sicuro che ti devo aiutare con il retino? Sì. Che vita di merda. E io come faccio a riprendere il retino? Dov'è questo retino più che tu? No vediamo aspetta. No ecco mi ha ammollato. Ti ha ammollato? Ecco meno male così non c'è bisogno del retino. Non c'è bisogno del retino. E due eh? Vediamo se ci arriva. Vediamo se ci arriva. In genere sono scemo. Se ne è forse che stavolta gli ho fatto male. Non lo so se ci arriva. Aspetta credo buraccia. Dopo che ci perdi un pezzo di dentista. Non ci vai più. Mi sa che c'ho la seppia? Corri. No. Corri. No. Vabbè la tiro così. Prima non mi aiutava. L'ho tirata così. È piccolissima. Buona buona. Buona buona. Attenta attenta aspetta. Termo fermo. Vai. Come si sente da stare a zero qui? Una era fuori gioco non era proprio zero strappata. Vabbè due fuori gioco non vale. La zona delle seppie è ormai superata e per una buona mezz'ora non si vede assolutamente nulla. Anche se la telecamera continua a riprendere cose molto interessanti come questo stupendo anemone e soprattutto come questa gallinella che sbuca dal nulla e va incontro al granchio a tutta velocità aprendo le pinne pettorali quasi a minacciare quell'intruso che sta invadendo il suo territorio. Mentre io e Stefano siamo completamente ignari di tutto. Ci siamo seduti come due vecchi. Com'è sta storia? È una pesca affascinante. Mamma mia. Questa altro che la traina. Emozioni da vivere proprio. Mamma mia. Meno male che ci sono le seppie e i polpi. Te posso neanche. Te porto più. Non me porti più. E mentre noi ce namentiamo la velocità di scarroccio è praticamente ottima ma il fondale è privo di vita. Si vedono solamente un sacco di buche scavate dai pesci come le triglie o come le mormore che sotto la sabbia cercano le loro prede. Per il resto non si vede nulla. Non ci sono scogli e non ci sono altri ostacoli che consentono ai polpi e ai cefalopodi di trovare comunque il loro abitato ideale. Allora siamo arrivati a un punto un po' diciamo morto. Infatti abbiamo fatto tutta una scarrocciata da quella scogliera. L'abbiamo costeggiata. Solo due seppie che ho preso io e una che ha perso Stefano. Ora siamo qui. Ho tolto la polpara quella clamorosa. E voglio provare un attimino di nuovo con questi della Daiva che avevano funzionato bene l'altra volta. Pezzettino di sarda. Vediamo se funziona. Riprendiamo tutto con la telecamera. In questa zona il fondale è cambiato. Non siamo più presenza di fango ma di rocce che si trovano sul fondo. L'ambiente molto più ideale per i polpi. Ho preso qualcosa di grosso. Un polpissimo. Vieni corri corri. Corri ste. Ho visto che bravo ragazzo. Tutto da solo. Eccolo finalmente abbiamo preso. Abbiamo. Ho preso il polpone con la totanara fra l'altro. Tutte quelle altre cazzate non hanno funzionato. Assata che sta andando a prendere i comandi dell'imbarcazione. S'aiutano qui. Scusi può darmi una mano? Ricordo sempre. Fai miseria. Tiralo. Che sei. No ma non devi dire un porco due. Stai. Stai chiesto. Ma cosa sta cazzo? Le cose. Da. Buttate in là. Vai. Minchia. Tutto a posto? Siamo un ributto. 3 a 0. La zona però sembra essere quella buona. Infatti dopo qualche minuto un altro polpo a tutta velocità si fionda sulle mie esche. Purtroppo non mi accorgo subito che ha mangiato e me ne accorgerò solamente dopo un altro minuto. E intanto il polpo me lo trascino per qualche centinaio di metri. Corri! No, aspetta. Aspetta che c'è qualcosa di un altro minuto qui. Aspetta. Stai a cacciare a tutto. No, sei slamato. No, 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 no. Purtroppo per voler accendere la telecamera il polpo si slama e si ritorna velocemente sul fondo. Cerco di ridare esca più velocemente che posso, però il polpo è già lontano. Però c'è l'altra totanara e infatti il polpo la segue di nuovo. Retino sta! No! Sì. Mamma mia, abbiamo trovato la zona d'oro. È solo che qualcuno non mi aiuta, cazzo, ma lasciavo da solo qui senza retino, senza niente. Ho slamato due polpi. Però dai, ci stanno, ci stanno. Vero? Ci sono, ci sono. Solo a me ci stanno, però. Poi nei miei scalmanamenti, ovviamente io sto pescando con una canna a seppie, un filaccione a polpi e un'altra canna a polpi. Quindi in tutto questo faccio anche video, no? Perché è bello fare casino. Qualcuno non sta prendendo nulla. Però oggi sono particolarmente fortunato e dopo qualche secondo il polpo di nuovo va a mangiare le mie totanare. Vieni un attimo con retino, va. Sì, un altro. Questo sì, è pure grosso. Là! Eureka! Ti sto sul cazzo? È pochetto. Ma pure, è giusto l'idea. Sì, ragazzi miei. Guardate che polpaccione, bellissimo. Stai, Stai, però, mi stavo odiando cifra, ma... Stai un po' capito. È il lato della barca. Che culo è c'è. Non puoi capire. Ma ragazzi, nel giro dei tre secondi... Una volta che trovate il punto giusto, è fotonica la situazione. Allora, secondo la mia teoria, forse sbagliata, oltre all'esca finta mi piace sempre metterci un pezzettino di sardina. Perché comunque l'odore con i cefalopodi è importantissimo. Quindi così loro lo sentono. L'avevo preso pure qui, eh. Due persi, due presi. Continuiamo a pescare su questo fondale roccioso molto interessante. E all'improvviso succede qualcosa di incredibile. Guarda. E si è rotta la tutanada dall'altra parte. No. Proprio deboluccio. No, ma come si fa a spezzare? Ma era quella per coso? Sì. Porco Giuda ragazzi, si è... Si è rotto proprio il cordino. Niente, sto un po' rosicando perché ho perso la tutanara. Quella bella, soprattutto con quel granchione che mi piaceva molto. Si è tutto sfibbrato. Si è preso dentro una roccia. Il cordino sembra essere completamente marcio e purtroppo abbiamo perso la tutanara migliore. Ma qualcosa di incredibile sta per succedere. Signore, può prendere il retino? Corri, 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 corri. C'è pure l'altra tutanara. Non c'è credo. Corri che c'è pure l'altra tutanara, quella col granchio. Questo supera ogni culo. Non ci credo. Non ci credo ragazzi. Corri, corri. Non ci posso credere. Cioè questa è una cosa incredibile, delle cose incredibili che mi sono succedere. Allora raccontiamo il mio culo nucleare. Praticamente 100 metri fa c'eravamo persi il granchio con tutto perché c'era rotto il filo. Poi ho preso il polpo e non so come ci aveva attaccato il granchio con tutto quanto. No, guarda. Hai un commento? Ma hai vista una cosa del genere? Guarda, l'ho vista solo su un video di uno che aveva perso una videocamera da ripresa con l'altra videocamera. Di più non ti posso dire. Così? Ero sempre io? No, no. Che culo. Non riesco davvero a capire come, ma questo polpo sembra essersi fatto più di 100 metri con l'altra totanara inseguendo le altre due totanare. Incredibile. E alla fine sono riuscito a tirarlo su e a recuperare tutto. Allora, l'unico cordino disponibile che non sia usuratissimo è questo. Ma è una matassa praticamente aggrovigliata. Penso ci metterò tre giorni a sistemarlo. Ti faccio presente che quella matassa l'aveva fatta lei l'ultima volta che è venuta in barca. Non mi ricordo questa cosa, non mi ricordo io. Ti ha preso, boom, tutto dentro. Dopo 45 minuti sono riuscito a sbrugliare il cordino. E ora vai ragazza. Eccolo. E anche questa funziona. E anche questa funziona. Beh, la funziona pure prima. Ah, questo è un po' più piccino. Bello comunque. Via. Dopo l'ennesimo polpo decido di invertire il granchio con la sardina. Perché secondo me funziona meglio e gli ami possono catturare meglio il polpo. Corri. È un polpo. Corri. Mi piace sto granchione, no? Vai. Lo vedi? Quello di per granchio secondo me è pezzo. È la sarda, no? Sì, sì. Allora, eccolo qua, il quinto. Questa c'era pure una loturia. Chissà perché. Allora, vedete? Questo polpo qui ha perso un tentacolo. Eccolo qua. Ora, i tentacoli però gli ricrescono. Questa è incredibile perché è proprio piccolino. Piccolino. Può essere stato l'attacco di una murena, un altro polpo, non si sa, eh. Però l'aveva perso. Ora, se riesco a fermarlo. Guardate. Sto micro tentacolino. Allora, comunque, questa storia non è solo questione di gran culo che io ho. È questione anche di odore. Perché purtroppo il buon Stefano ha le totanare che le tiene qui nel gavone. E nel gavone ogni tanto si crea quella pozzetta di benzina. Quando pesci, cefalopodi, sentono odore di benzina è finita. Infatti, io le sto prendendo, lui non le sta prendendo. Ora gli ho dato un paio delle mie totanare. Ma ci abbiamo pure l'arma segreta. Dov'è? Nel gavone. Che è? Se l'ha dato dal buon Mirko. Blood warm potion. Pozione di vermi. Proviamo. Che schifo. Proviamo un po'. Metti, va. Non funziona? Aspetta, mi sa che Mirko mi ha dato una sola. Come al solito? Un solo chione? No, no. Che è sta pozione di vermi? Ecco. Eccola. Metti solo. Puzza. Puzza che non ce ne ne va. Senti, fa sentire. O te la devi fare. Mamma mia. Dai, Stefano. Guarda lui, è tutto tendacolone. E dopo poco anche Stefano riesce a catturare il primo polpo. E sicuramente era colpa di ritottanare che sapevano di benzina. Infatti gliene presto un paio delle mie. E anche con quelle riesce a catturare un altro bel esemplare. E due. Allora, abbiamo raggiunto di nuovo il limite della zona Cesarini. Che più o meno si trova lì. Quindi noi ritorniamo sulla zona Cesarini perché appena ci saliamo su, preschiamo i polpi. Ho convinto anche il buon Stefano. Dai, tira su. Dai, su. Torniamo indietro, però non si vede più nulla. Ormai si è fatto tardi e la temperatura comincia a scendere di nuovo. È il caso di tornare a casa perché questa pesca, se non mangiano, non è molto divertente. Ributtiamo i ragazzini, i bambini che non ci servono. Corri via. 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 Ciao. Ma come è contenta? Non è andata. Felice, felice. Abbiamo rotto le... Abbiamo rotto le scatole solo 5 minuti, dai. Poi l'abbiamo ributtata. Eccoci, basta, abbiamo detto basta. Basta polpi, basta polpi. Questa pesca è bella quando mangiano, quando non mangiano, due coiomberi. Allora, l'abbiamo presi diversi, qualcuno più grande, qualcuno un po' più piccolino, qualcuno ancora più grande di questo. Però dai, alla fine ci siamo difesi bene. Ma sì, dai. Ma sì, dai. Quanto, quanto stiamo? Non lo so. Io purtroppo ho perso tretto tanare, di cui due me le ha perse Stefano e una l'ho persa io miseramente in una manovra. È il minimo che te posso fare. Comunque non vedo l'ora di vedere... Non vedo l'ora di vedere i filmati subacquei, perché secondo me ci sono un sacco di cose serie. E ora se Stefano non gemma il microfono con i suoni che rompono le scatole. Abbiamo sporcato anche relativamente poco. Cosa c'è il microfono? Che è quello? No, eccolo qua il microfono. Senti, sicuro. Senti, senti. Se il video vi è piaciuto, alla prossima e magari consigliateci qualche tipo di pesca dalla barca e noi la faremo. Non la train col vivo, per favore. Mi sa che non ci rivediamo. No, tu non hai culo. Sei stato costruito intorno a un culo. Aspetta, che sta a fare questo? Questo è ancora più bello, eh. È il mio. Questo è il mio. È il tuo. È il 9.13. Guarda questo che sei. Ma non me la dà una mano, così non ho capito. E' un affarattore. Aspetta che ce la... Eh, dove? Senti, vabbè. Tanto è la roba. No, poi, ti permetterai, no? Ce la fai? No. Quest'altro sta uscendo. Ce la devi uno, ce ne hai altri 8. No, altri 7. Guarda qui, ragazze. Come qua? questo è uno e ora ricominciamo con l'altro ma cos'è? stai stai mi sto anche scedendo no che è successo?